Alberigo Gambino a Cava dei Tirreni per sostenere la candidatura di Alfredo Messina, ex sindaco di Cava dei Tirreni. Una candidatura di prestigio, una candidatura voluta fortemente da tutto il gruppo consigliare di Cava dei Tirreni, una candidatura che potrà dare grandi soddisfazioni sia a Cava sia al presidente Cirielli nel momento in cui vincerà per il suo sostegno e il suo supporto tecnico che Alfredo attraverso la sua esperienza porrà dare. Perché il centrodestra alle prossime provinciali vincerà secondo lei? Per due ordini di motivi. Il primo perché abbiamo messo in campo una persona che attraverso la sua esperienza politica, attraverso la sua storia politica ha dimostrato di essere fortemente appassionato a quelle che sono le sorti del territorio. Dall'altra parte la seconda motivazione è perché ormai sono 15 anni di amministrazione di centro-sinistra dove non è stato fatto alcunché per produrre sviluppo su questo territorio. C'è bisogno di voltare pagina, c'è bisogno di raddrizzare la rotta e con il mondo Cirielli questo potrà avvenire.